Buongiorno, 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 oggi hanno montato le scrivanie d'uovo, quelle in sette modi diversi e quanto ci hanno messo per montarla? Sette ore, solo? Sette ore più la pausa. Sette ore con la pausa. Scrivete nei commenti quanto ci avreste messo voi. No, ci vuole un altro giorno. Ah, devono rivenire? Devono anche rivenire. Il martedì e il nuovo lunedì immagino. No, oggi sembra venerdì per quanto sono stanca da ieri. Per quanto c'è sonno sembra notte. No, domani devo fare tutti i conteggi dei fatturati. Ah, io sono bravo anche lì, questo mese non ti faccio conteggiare. Lo vorremmo troppo. O troppo poco, io lo so. No, troppo poco tu. In tutto questo la scrivania di Pisa è ancora qui. Armaghetto zoppo. Questa è la famosa scrivania 304. L'unico modo in cui posso guardare Viola dall'alto verso il basso, questo. Perché poi si alza, fa vedere quando ti alzi. Lui, la tu volai. Io la guardo così. Ebbene sì, questa mattina è in ufficio con delle scartoffie. Due valutazioni da fare, una proposta da compilare. Viola voleva partecipare al mio video e quindi eccola qui. Sbatti però. No, senti quello. Eh. Brava Viola, grazie per la partecipazione. Ovviamente, come al solito, gli appuntamenti non si fermano. Stiamo a fare un mare. Quindi, se c'avete casa da vendere, sapete chi chiamà. Non so se i miei video hanno fatto bene o male, perché secondo me avete cominciato a pensare che la vita, la mia vita, quella dei miei colleghi, se tutto hanno... Eh eh eh, ci divertimo. Ah ah, che bello. Ah. E più comunemente invece è così. Ma vado a fare intuvalle. Basta, io me so lottare coi... Sister. Giornata di merda. Ma vaffan... Sì. Riunione. Riunione, quindi, buongiorno Giuliano e buongiorno Melissa. Buongiorno. Eh, tanta vita oggi. Se poi lui... Vai a letto con qualcuno ogni tanto. No, aspetti un attimo. Vai a letto con qualcuno ogni tanto. Vai a letto con qualcuno ogni tanto. Vai a letto con qualcuno ogni tanto. Vai a letto con ogni tanto. Vai a letto ecco. Il lavoro di ricerca, come avete visto lunedì, avete visto solo lo spezzone in cui entravo nel bar, non quello in cui attaccava il pipone alle persone. Non si ferma. Il mercoledì ho fatto due valutazioni. A breve avrete tante novità. Beh, dopo un'ora che giravo, una botta del culo ci voleva per trovare parcheggio, no? Lei è ancora qui. Ancora storta. Io so gemelli, doppio giochista, volta gabbana. Non mi ricordo più che avevo detto. Dove sei? Doppia faccia, non mi evitate di me. Guardate che occhiaie, poi. Meditate, gente. Meditate. Mandatemi, e mi raccomando, devono essere strani, eh. Gli annunci immobiliari. Ma i più strani che riuscite a trovare. Poi vi spiegherò anche perché. È ripartita la comunella. Questa volta TikTok. Ci riproviamo. Che vuoi? Niente! E quindi stamana a canino. Oggi è una giornata di... Quella con la M. Quella con la M. Quella parola con la M. Che non mi adesso mi sfugge, non mi viene. Eh... Vabbè è brutta, insomma. È una giornata brutta. Anche questa settimana è finita. È stata una settimana lunga, difficile, piena di problemi, piena di imprevisti. Come avete visto il video è molto più corto rispetto alle altre settimane. E vi spiegherò in breve perché. Non c'è stato proprio il tempo. Il tempo fisico di fare, di girare cose. In più vi dico. Da questa settimana cambierà la scaletta dei miei video. Ne avrete il video della settimana lunedì. E il venerdì uscirà un altro video. Io ho diversi progetti in cantiere. Li sto sviluppando. Quindi a breve ci saranno tante novità. Come al solito. Se il video vi è piaciuto. Mettete like. Iscrivetevi al canale. Condividetelo con i vostri amici. Mi raccomando. Allarghiamo questa cerchia di persone. E cerchiamo di far capire a tutti. Che gli agenti immobiliari. Non sono solo macchine. O solo imbroglioni. Che vogliono per forza. Rifilarvi qualcosa. Ci sono anche delle persone normali. Fra di noi. Ora visto che stamattina. Non abbiamo avuto tempo. E non l'abbiamo potuto fare. Lo faremo. Avevo dormito. Allora lo faremo adesso. Però lo faremo diverso. Quindi. Buon pranzo Alessandro. Buon pranzo Viola. Buon pranzo Noemi. E Dori ha già pranzato. Dori ha già pranzato. Quindi buon pranzo anche a Dori. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.